Mastro e Capottamaro Mastro e Capottamaro Mastro e Capottamaro Mastro e Capottamaro a destra dal pizzo dove sei andato tre camion 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 Scalzo. 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 Rovira. Scalzo. Sì, c'è lì, c'è lì. Grazie. 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 Sì, sono qua. Devo mettere una frequenza a 122.8. Stoic 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 Sì. Il posto, il posto viene un'attroppo. Bravo! Quattro. Quattro. Sì. il primo device, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.